Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Buongiorno e benvenuti nel nuovo sito Cittadinanza e legalità dell'Associazione Vittime del Dovere. L'Associazione Vittime del Dovere persegue obiettivi specifici, tra cui fare prevenzione anche mediante iniziative volte a promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Si vogliono infatti seminare gemme di giustizia, avvicinando i giovani ai valori che animano i servitori dello Stato, così da ingenerare rispetto e considerazione per il difficile ruolo da loro svolta al servizio della nazione e della comunità. Il nuovo sito presenta due nuove sezioni, la prima destinata ai progetti di cittadinanza e legalità e la seconda destinata ai convegni della legalità. La sezione convegni e legalità riunisce i contributi che ad oggi sono stati realizzati in Italia dall'Associazione, in collaborazione con importanti partner istituzionali, al fine di non perdere un importante patrimonio di conoscenza e confronto. All'interno dell'home page è stata inserita inoltre una nuova sezione, che è quella relativa alle ultime news. In questa sezione sarà possibile rimanere informati su tutte le attività collegate ai progetti della legalità e ai convegni della legalità. Ma veniamo a noi. È ora di esplorare la nuova sezione destinata ai progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità. Ed ecco qui la sezione dedicata ai progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità per l'anno scolastico 2021-2022. La sezione dedicata ai progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità consente di accedere a due progetti. Il progetto Interforze dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Lombardia e al progetto Nazionale Vittime del Dovere nella Costituzione. Entrambe le sezioni consentono di accedere liberamente ai materiali del progetto, come la scheda progetto e la locandina. Inoltre, per poter accedere ai materiali contenuti nell'area riservata, sarà necessario iscriversi. Iscriversi è molto semplice. Basterà cliccare sulla cartellina Iscriviti, selezionare il concorso prescelto, inserire i propri dati dell'istituto e cliccare su Iscriviti. Questo consentirà al sito di inviare agli indirizzi selezionati al momento dell'iscrizione la user e la password, così da poter fare accesso all'area riservata. Accedere all'area riservata è molto semplice. Basterà inserire la user e la password comunicati tramite e-mail. Ed ecco qui la sezione riservata dei progetti della legalità. All'interno è presente un breve messaggio introduttivo e sarà possibile poi accedere alla sezione riservata, che contiene non solo le modalità di partecipazione e alcune specifiche relative alle tipologie di elaborati e alle modalità in cui trasmettere gli elaborati, inclusa una sezione dedicata al caricamento dell'elaborato online, ma sarà possibile accedere a tutta una serie di materiali multimediali realizzati dall'Associazione e dai partner del progetto, così da approfondire sia la figura delle vittime del dovere, sia la Costituzione italiana. Non ci resta che augurare a tutti voi una buona partecipazione. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Buongiorno, sono Luisella Pozzani di Uni, l'ente italiano di normazione. Sono qui con Viviana Buscemi, Technical Project Manager di Uni, che saluto. Bentrovati a tutti. Prima di introdurre il tema di oggi, ricordo che Uni è un'associazione senza fine di lucro, riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia e pubblica le norme tecniche e le prassi di riferimento, documenti di applicazione volontaria che stabiliscono come fare bene le cose, cioè con più qualità, più sicurezza e rispetto per l'ambiente. Allora Viviana, venendo all'argomento di oggi, perché Uni è ritenuto importante pubblicare una norma sui requisiti professionali del cuoco? Sì, proprio perché quella del cuoco è una professione complessa, che sembra alla portata di tutti, ma in realtà richiede competenze e abilità specifiche, che ovviamente devono essere accompagnate da una solida base formativa. Per questo motivo Uni, in collaborazione con diversi soggetti, tra cui la Federazione Italiana Cuochi, ha recentemente pubblicato la nuova norma Uni 11.833, che definisce i requisiti dell'attività professionale del cuoco professionista e del cuoco professionista chef. E che requisiti devono avere questi due figure professionali? Allora, il cuoco professionista ha innanzitutto il compito di cucinare, cioè trasformare gli alimenti secondo le ricette definite per il servizio richiesto. Quindi deve controllare che le scorte di materie prime siano sufficienti, deve predisporne la corretta conservazione e saper utilizzare gli strumenti necessari, ovviamente nel rispetto della legislazione sull'igiene e sulla sicurezza. Il cuoco professionista chef, oltre ad avere tutte queste competenze che ho appena detto, deve anche avere competenze di tipo organizzativo e gestionale, cioè deve coordinare e gestire la cucina, organizzando gli ambienti di lavoro, coordinando la brigata, quindi pianificando i turni e le fasi di lavoro, e gestire le comande secondo delle priorità. Poi ha anche il compito di progettare il menu, di ideare le ricette individuando anche i fabbisogni e i gusti dei clienti, e definire anche i prezzi dei piatti. E puoi farci qualche esempio concreto? Certamente, possiamo dire che il cuoco professionista controlla che la dispensa sia fornita di tutti gli ingredienti necessari per preparare i piatti, mentre lo chef gestisce tutto il processo di approvvigionamento, quindi pianifica gli ordini delle materie prime, tiene i rapporti con i fornitori e si assicura che ci siano tutti gli ingredienti necessari. Pranzare fuori casa è una tendenza in aumento, in particolare nelle grandi città, dove per motivi di lavoro spesso si pranza nelle mensi aziendali. Ma cosa può fare in questo caso la normazione per tutelare i consumatori? Può fare molto. Proprio recentemente, infatti, UNI ha pubblicato la nuova edizione della norma 11.584 per progettare i menù destinati alla ristorazione collettiva, sia pubblica che privata, cioè da parte degli enti pubblici, aziende e professionisti, escludendo i servizi di ristorazione commerciale. Questo documento coniuga gli aspetti di sicurezza alimentare con i fabbrisogni nutrizionali in un'ottica di sostenibilità ambientale. In altre parole, se si riesce a progettare un menù giusto, con gli ingredienti giusti del territorio, allora avremo probabilmente meno sprechi alimentari e i commensali saranno più soddisfatti. UNI ha pubblicato sinora centinaia di norme nel settore agroalimentare, che vanno dai metodi di laboratorio più specifici fino ai macrotemi come la dieta mediterranea. Sì, nel 2010 la dieta mediterranea è stata riconosciuta dall'UNESCO, Patrimonio Immateriale dell'Umanità, e da allora è cresciuta la consapevolezza della sua importanza per la qualità della vita. Quindi, sulle scie di questo riconoscimento, UNI ha sviluppato una prassi di riferimento, che è la PDR 25, che individua gli elementi chiave per promuovere la cultura favolevole allo sviluppo sostenibile attraverso gli stili di vita. La prassi intende la dieta mediterranea non solo come regime alimentare, ma come un concetto più ampio di valori di tipo culturale e sociale tradizionali dei popoli del Mediterraneo. In pratica, la prassi definisce le linee guida per salvaguardare, valorizzare e trasmettere alle future generazioni i valori intangibili propri della dieta mediterranea. Bene, ringrazio Viviana Buscemi, Technical Project Manager Innovazione e Sviluppo di UNI, e ricordo che tutte le informazioni relative alla nostra attività si trovano sul sito www.uni.com. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie. Buongiorno, io sono il dottor Vanzetti, un oculista di Torino, per 40 anni ho fatto l'oculista all'ospedale Mauriziana, e sono tuttora consulente per la parte delle malattie rare dell'associazione Apri. Perché sono qui oggi? Perché, a parte le cure, a parte lo studio che facciamo sulle patologie, riteniamo molto importante fare informazione, e quindi parlerò di alcune situazioni, diciamo poco conosciute, legate alla rettisi pigmentosa e ad altre patologie rare. Oggi parliamo di emeralopia. Cosa significa emeralopia? Fondamentalmente emeralopia significa non vedere al buio. Ma non è una malattia l'emeralopia, è un sintomo. È un sintomo di diverse malattie. Esistono fondamentalmente due tipi di emeralopia. Una emeralopia congenita, ovvero delle malattie che esistono già alla nascita, ereditarie, ed è una emeralopia invece acquisita in altri tipi di patologie. Poi parleremo di cos'è non vedere al buio, ma cominciamo a chiederci perché non vediamo al buio. Nella rettina fondamentalmente abbiamo molte cellule, molti strati, ma due tipi di cellule e di fotorecettori, i coni e i bastoncelli. I coni sono quelli che ci permettono la visione che definiamo buona, cioè leggere, vedere gli oggetti, riconoscerli, vedere i colori, avere la visione binoculare. I diecidecimi però non sono tutta una buona visione, esiste un ulteriore complesso di necessità, quali, ad esempio, vedere il campo visivo periferico e vedere al buio. E questa parte della visione è legata all'uso dei bastoncelli. Quindi, quando noi non vediamo al buio, è legata a un'alterazione dei bastoncelli. È una patologia congenita la maggior parte delle volte, quindi comincia nell'infanzia. Per cui, se un bambino dice ai genitori di non vedere al buio, bisogna avere il sospetto e fare delle indagini fondamentalmente. Esistono degli esami, la dattometria, che si usa poi nella patente, ne parleremo dopo, ma fondamentalmente gli esami classici per le distrofie retiniche hereditarie, cioè l'elettroretinogramma, il campo visivo e l'esame del fondo dell'occhio. Ma adesso parliamo un secondo di cosa significa non vedere al buio. Tutti noi non vediamo il buio, nel buio totale non siamo in grado di vedere. Oggi è difficile pensare al buio totale, siamo una civiltà della luce, per cui i momenti in cui esista veramente un buio totale sono estremamente rari. Ma se qualcuno è capitato di essere nel buio totale di una galleria, di una camera completamente chiusa, si renderà conto di essere completamente cieco. Questi pazienti vedono perfettamente durante il giorno e quindi possono fare una vita normale e non vedono nulla nel momento in cui la luce cala, non nel buio totale, ma nel momento in cui la luminosità si riduce, la loro capacità visiva si riduce a zero. E questo è una cosa estremamente invalidante, è un problema estremamente grande, già nell'infanzia da ragazzini, quando si trovano a uscire con amici, finché c'è luce sono uguali agli altri, possono giocare al pallone, possono fare qualunque cosa. Nel momento in cui la luce scende, questi diventano ciechi, quindi con tutti i problemi di relazione, con tutti i problemi di rischi personali, difficoltà, che possono avere i ragazzini. E continuando avanti nel tempo, naturalmente anche per la patente, anche per le necessità quotidiane. Il fatto quindi che queste persone vedano benissimo alla luce e non vedano nulla al buio, fa sì che non vengano riconosciuti come invalidi. E questo l'APRI sta cercando appunto con queste informazioni di spiegare. È un problema classico dei falsi invalidi che bisognerà poi trattare in un'ulteriore conferenza, un altro argomento importantissimo. Quindi abbiamo persone che vedono perfettamente durante il giorno, nulla durante la notte e di per sé non vengono riconosciuti invalidi. E questa è una grossissima limitazione alle loro capacità e alla loro autonomia. Quindi è fondamentale che le persone capiscano che esistono questi problemi e che aiutino le associazioni a fare informazione. Vi ringrazio naturalmente per questi minuti che mi avete dedicato e ci vediamo per un prossimo appuntamento. Buongiorno a tutti, sono Mauro Valentini, Presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, associazione provinciale di Biella, una delle 106 associazioni provinciali della LILTE, di cui ricorre quest'anno il centenario. Già cent'anni fa ci si è resi conto che la malattia a cancro non colpiva solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello psicologico, relazionale, familiare, lavorativo e sociale. Di qui la scelta di campo della LILTE di interessarsi prevalentemente della prevenzione, primaria, secondaria e terziaria. Con la primaria si riduce l'incidenza, con la secondaria si aumenta la guaribilità, con la terziaria si favorisce il ritorno ad una vita normale, precedente della situazione precedente alla malattia. L'impegno di LILTE di Biella per la realizzazione e la gestione di spazio LILTE copre questi tre aspetti, con programmi di promozione di corretti stili di vita nel mondo della scuola e per la popolazione generale, con i 10 ambulatori per la diagnosi precoce e con la riabilitazione dell'attività motoria adattata per il recupero degli effetti della malattia e degli effetti collaterali delle terapie, tanto che si è passati da 3.500 a più di 12.000 prestazioni effettuate nell'anno. Questo va nella direzione promossa da LILTE già nell'immediato dopoguerra, ossia quella di orientare l'attività al mantenimento del buono stato di salute e del benessere, oltre che alla ricerca e alla terapia e alla cura delle malattie tumorali. Adesso si parla troppo, in maniera quasi ossessiva, delle conseguenze della pandemia e si dimentica che sono molti di più coloro che muoiono di cancro rispetto a quelli che muoiono di Covid. A ciò si aggiunge che a causa della sospensione delle visite, degli accertamenti e degli screening, nei prossimi 5-10 anni ci sarà un incremento dell'incidenza della malattia a cancro. Noi abbiamo sospeso le visite solo nei due mesi e mezzo del primo lockdown e così facendo abbiamo contribuito, almeno in parte, a ridurre i disagi dei cittadini biellesi. L'unico effetto positivo, se così si può chiamare, della pandemia è stato quello di portare all'attenzione della cronaca le carenze del sistema sanitario nazionale che erano già presenti in conseguenza dei ripetuti tagli lineari posti in essere con i piani di rientro per ridurre il disavanzo che si era creato negli anni. L'esperienza negativa conseguente al Covid e la sempre più difficile sostenibilità del sistema sanitario nazionale dovrebbero aver reso evidente quanto sia e potrebbe ancor più essere importante la definizione di percorsi di collaborazione tra le associazioni provinciali della lente e la sanità pubblica nell'interesse della salute dei cittadini e dell'economia sanitaria. E' quindi auspicabile che politicamente vi sia un'apertura nei confronti della realtà di strutture come la nostra che sono in grado di essere complementari e di supportare adeguatamente il sistema sanitario regionale ad esempio, ma non solo, nell'abbattimento delle liste d'attesa che con la pandemia si sono inevitabilmente allungate creando il danno di cui abbiamo parlato prima. Grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti. Siamo in collegamento con Roberto Sardo, presidente ANMIL Piemonte. A Roberto Sardo chiediamo come sta affrontando l'ANMIL in questo periodo le emergenze e come le sedi stanno offrendo supporto ai cittadini e agli associati. Salve a tutti. Allora, le nostre sedi sono sempre state aperte in piena sicurezza nel rispetto della salute di tutti perché comunque la prevenzione è per noi un valore fondamentale. Ciò significa che il personale è sempre stato presente quotidianamente presso gli uffici per offrire supporto sia agli associati che ai cittadini che si rivolgevano a noi. Abbiamo sempre cercato di non affollare i locali e quindi abbiamo lavorato molto con appuntamenti. Non abbiamo mai lasciato comunque soli sia i nostri associati che gli utenti. Ecco, quali sono i problemi che più frequentemente angosciano e preoccupano gli utenti? Ma in particolare hanno il timore di vedere calpestati i loro diritti, di non essere ascoltati e soprattutto di non ricevere le informazioni corrette. Purtroppo questo accade spesso perché chi subisce un infortunio sul lavoro oppure contrare una malattia professionale o peggio ancora subisce la perdita di un congiunto per un incidente sul lavoro si trova totalmente impreparato e quindi il più delle volte non intraprende le strade giuste. Questo accade soprattutto quando decidono di intraprendere magari una procedura in giudizio contro le aziende perché i processi sono comunque molto lunghi e non tutti i professionisti sono in grado e preparati e sono preparati a portare avanti queste cause complesse dove le vittime sono sempre quelle più economicamente deboli. Quali sono i servizi che le sezioni offrono sui territori? Ma sebbene la pandemia e le restrizioni abbiano comunque inciso sulla nostra attività ci siamo organizzati in modo da prendere appuntamenti e quindi lavorare in sicurezza e quindi abbiamo fatto in modo che i soci potessero comunque affidarsi a noi liberamente in tutta tranquillità anche perché il nostro personale è altamente qualificato formato specializzato e soprattutto abbiamo del personale molto disponibile attento soprattutto alle condizioni delicate che le famiglie si sono trovate ad affrontare in questo periodo. in ogni caso offriamo comunque informazioni e consulenza su tutte le tematiche previdenziali legate soprattutto alla disabilità e forniamo assistenza fiscale affinché tutti possano conoscere le agevolazioni di cui hanno diritto e che possono essere in grado queste agevolazioni di alleviare il peso economico per la perdita magari di un lavoro. Bene, l'ultima domanda quali iniziative portate avanti generalmente per svolgere attività di sensibilizzazione sulla prevenzione? La promozione della sicurezza sul lavoro è diventata negli ultimi anni la nostra cavallo di battaglia affinché cerchiamo di evitare che accada agli altri quello che abbiamo subito noi sulla nostra pelle. Per questo portiamo le nostre testimonianze utilizzando appunto i nostri volontari nelle aziende e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e di ogni grado. Certi, perché siamo certi e certi siamo certi di riuscire a catturare comunque l'attenzione anche dei più distratti e lasciamo comunque un forte impatto emotivo che difficilmente verrà dimenticato e quindi soprattutto per gli studenti gli potrà essere utile in un futuro lavorativo che andranno dintro a prendere. Bene, ringraziamo Roberto Sardo Presidente Amil Piemonte. Grazie a voi. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.